Nella costruzione della pace, le religioni, con le loro risorse spirituali e morali, hanno un ruolo particolare e insostituibile. Esse non possono avere un atteggiamento neutro e ancora meno ambiguo riguardo alla pace. Chi commette violenza o la giustifica in nome della religione, offende gravemente Dio, che è pace e fonte della pace. E ha lasciato nell'essere umano un riflesso della sua sapienza, potenza e bellezza. Papa Francesco, ricevendo i delegati della World Conference of Religions for Peace, prima dell'Udinanza Generale, ha ricordato che la pace è un dono divino e una conquista umana, che si fa artigianalmente, con il cuore, con la mente e con le mani. Il Pontefice ha anche invocato uno sforzo comune tra le religioni per promuovere l'ecologia integrale e un'alleanza morale, basata sul rispetto della dignità della persona e la cura del creato, sulla scia di tanti buoni esempi in molte parti del mondo, dove insieme, credo diversi, si oppongono ai conflitti violenti.